un uomo un uomo un uomo un uomo un uomo io perché sono disponibili dal punto passivo questa cosa sono caduto sono morto sono morto sono morto sono morto morto ti devo venire a restare vero guarda seppe se riesco ok si no 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 non ci credo non ci credo a chi no ti prego sei morto a chi no mi rifiuto mi rifiuto ma non sono morto bene la morte da ebete allora facciamo così la roba sappiamo dov'è tanto i rifornimenti della base ce l'abbiamo puoi andare lì subito si subito fermo prendi il fornimento si allora barrette cazzo hai ragione hai ragione hai ragione ehm medicina medicina ok anche troppe il legno anche il legno il legno i bastoncini oh vale voglio 400 bastoncini di legno eh andiamo andiamo non vedo niente ecco io non uso manco l'accendino cioè scendiamo conto che demente ah bravo eccoci nella voragine allora ci sono due cose da fare ok la prima o scendiamo nel punto dove c'è quella caverna e facciamo rifornimento lì e prendiamo dopo la roba oppure prendiamo prima la roba e poi saliamo prendiamo prima la roba e saliamo ok concordo proviamo a scendere in qualche modo se cadi di nuovo minchia mi soffi il culo vengo a casa tu e ti esplodi come scendiamola qua? oddio non c'è un punto dove scendere no è morto mi cura e vengo ad arrestarti non ce la fai zii sono vicino a te fai piano zii ti prego ah ok son vivo ti vivo? si grande ti resto ti resto compagno io non ti abbandonno attenzione cadi 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 stavi cadendo di brutto se tu segui ma vale ma siamo arrivati no non è vero no abbiamo oltrepassato il punto tu lo vedi dove dobbiamo andare? si è lì lo so devo fare una manovra strana oddio che brutto strana ce l'ho fatta pure io aia sono un genio sono un genio vale sono un genio ok io ce l'ho fatta anche si ma sono un genio anche io mamma mia non sono mai stato così tanto concentrato raga vaffanculo il parkour di minecraft questo è il vero parkour ok buongiorno ok son caso son vivo anch'io anche io ah no ma come cazzo sono arrivato fino all'inizio oddio son caduto ok l'ho presa salgo salgo io no non riesco a prenderlo in un punto strano qua giù come ci sono arrivato lì vale io non lo spieghi dammi la mia roba bene sto morendo ho fatto vieni no a chi no eh per favore copri mi zi come faccio a chi ci sono sette indigeni qui bloccati guardali vieni a vederli noto noto vai salta gli attiro io se vuoi no gli attiro io perchè sono figo vabbè non è che schifosi che bello godo ma che godo ma quanto godo non è che schifosi oh no no salta stavo scherzando stavo scherzando stavo scherzando vale dobbiamo salire noi come saliamo e se salviamo e se salviamo nel punto dove dobbiamo salvare vai vieni fatti no aspetta dormi e poi salvo mi trovo carne a cuocere dormi sto dormendo è lui che doveva dormire che che no non sono stato io è tutta colpa tua ma perchè è colpa tua spacca caso una per ognuno do allora vale come saliamo eccolo lo vedo il punto vieni qua vieni qui 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 mangiamo prima lo vedi il punto sta facendo guarda la lo vedi con il punto la dove ci sono le rocce ahia la guarda si si lo vedo lo vedo io per magari ho visto come salire ho visto come salire ok non potresti salirci però se andate sotto a destra c'è una porta che vi porta ad una caverna poi andate in superficie uno mi fa uno mi fa la porta l'abbiamo già vista ok e serve serve la dinamite serve la dinamite per spaccare il il percorso successivo ma scusa tu non puoi fare la bomba hai ragione hai ragione che cazzo dico si ma vale tu lo sai cosa dobbiamo fare per andare lì vero che ci sono tre boss da superare ho la bomba io eh grazie ok ti ringrazio ti ringrazio grazie tantissimo ok zi nervi salvi sangue freddo questo posto lo so a memoria ormai vi dico però che è la caverna più pericolosa del gioco lo so l'ho visto l'ho visto molto bene si è aperto ok andiamo andiamo corri bastardo suca ci sei? si tu vai non si apre non si apre no a me no mi devi tenere lì non si apre raga non si apre ok tienimi occupati i boss tienimi occupati i boss me li tieni occupati vale si 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 ok tieni 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 resisti resisti vale resisti tirala tirala lag totale aperto vieni aiuto non ho sprint non ho sprint cazzo oddio 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 si ce l'abbiamo fatta oddio ringrazio non ho non ho si donald duck donald duck ma quanto ci sono sucati ringrazio florin ah si in questa caverna potrete trovare l'arco moderno ok si me lo ricordo ok buono come già perchè canti vittoria li ammazziamo li ammazziamo basta vale cattivo eh no 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 si però pure io no no tutto crepa passato smembriamolo donna tutto li sto tagliando tutto madonna tt toglia la mamma la coduria ho sete ho freddo anche io ok mamma mia ok andiamo ok con calma eh vale con calma ok se ho ancora legnetti eh boss virginia oh indigeno ammazzo dove cazzo è sento versi pure io sento versi orribile e non sono versi umani corri ma che cazzo mi sta ma l'hai visto l'hai visto gira allora se io mi metto in un punto buono mi tiro le bombe e le moto ok ci sono ok ma sale sta troia no 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 zi mi tiro una bomba tiragli la bomba vai virginia vieni qui mi tiro la molotov ti ho tirato la bomba molotov godo godo tantissimo dai bomba di molotov vale vieni vieni no non vi dire vieni vieni vale eh devi scendere un attimo ad attirarla perchè non può stare viva dove cazzo però dov'è e quello è il problema eeeh laggiù in fondo eccola eccola arriva 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 ok 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 ma vaffanculo ci sto bastardo a che che è un picchio sono morto sono praticamente morto no anche curati eh ho un'altra bomba corriamo 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 dici corriamo 1 2 3 corri ci succediamo ci succediamo ci succediamo ci succediamo cazzo io sto correndo ti ho superato ti ho superato dobbiamo andare sott'acqua vieni oh vieni l'uscita è nel passaggio bloccato dalle recinzioni ha detto ok il passaggio bloccato dalle recinzioni non abbiamo visto nessuna recinzione ho visto solo sto passaggio subacqueo vediamo cosa si può fare ok sono uscito pure io sei vale ok tranquillo sono con te oh salvataggio ho visto dove quanto godo quanta roba quanta roba c'è rifornimento arco moderno eccolo bello schede marri mamma mia vengala ci voleva questo vero vale mamma mia ok ma c'è dell'altro ho solo sto arco non che sia poco mi sa che è solo questo minchia che cazzo vuoi hai già tanto ok tutta sta roba ce lo siamo meritati minchia siamo sopravvissuti a tutto allora adesso dobbiamo però aspetta chiedi alla tipa al tipo quello che è ok chiedi tu siamo arrivati fin qui siamo arrivati fin qui ok mentre scappavamo dai boss lì di prima io non ho notato niente nessuna uscita strana diversa forse perché ero di fretta ci sono tre passaggi da quella stanza con le virginia uno era questo ok mi curo vai andiamo mi sono curato no pensavo di avere la torcia scarica dovete trovare il passaggio bloccato dalle recensioni e proseguire per la caverna ok c'è la superficie la vera noto è sprofondata ma che godimento è più è affogata ma che godimento ho trovato ho trovato vale sto arrivando eccomi eccomi no no non vai giù preparati perché dobbiamo fare un rifugio eh te lo dico ci sono due indigeni qui ok 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 corda ok qua c'è la corda si sale ma qua si scende fermo non credo vai a vedere no no ok non aveva senso non aveva senso ok saliamo bene grazie a florin ce l'abbiamo fatta allora ce l'avremmo fatta anche senso ok si vabbè però ringrazio in che modo la zona l'avremmo ricontrollata però comunque oh bombola ti ringrazio bombola io so cos'è questo posto questa è l'altra parte che ti ho detto prima è vero oh cartolina oh cos'è una croce una foto con una croce è un qualcosa raga siamo fuori quasi dai dai vale qui c'è la mappa qui c'è la mappa è pieno di bambini è pieno zeppo di bambini vale qui c'è la mappa mi sa davvero mi sa che si ah qua c'è una fune lunghissima vale vai vai su dai che usciamo da stavolare quanto è la durata della live un'ora e 8 e 08 saliamo su un'ora e mezza e ci stoppiamo si si appena usciamo stoppiamo quindi ancora un po' no il picchetto e no z bisogna saltare oh c'è il picchetto bisogna saltare uno due ce l'ho fatta sono sono caduto sono caduto nell'acqua ma che culo dai che qua c'è la fune finale faccio veloce faccio veloce devi fare veloce ti prego fai metti a fare il rifugio vale quello base quello base tu lo sai cosa succedeva se io non cadevo nell'acqua mancano quattro legnetti eh dimmi che ce l'hai ma come hai fatto tu a farcela ho saltato ma tu sei un genio cioè tu hai messo a fare il rifugio dall'altra parte si come c'è lì? da che parte sei saltato? da lì? da qui? si salta al limite devi saltare però eh si vai fai fallo fallo no vabbè levalo 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 vai 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 no è la fune più lunga del mondo non importa l'importante è che saliamo vale sali sto salendo aspettami ti prego vale non riesco a trovare un'uscita no non venire vale non venire bisogna cambiare direzione ok arrivo io ok una caverna colossale raga sali oddio una fune ti prego facci salire facci salire facci salire ti prego raga io voglio uscire la mappa ti prego la mappa la mappa è qui veramente? io mi ricordo che è qui ti prego ti prego ti prego è qui la mappa me lo sento oh no no non è qui peccato corriamo a casa siamo usciti? corriamo a casa stiamo lontanissimi no non corriamo a casa salviamo ho paura che non ci arriviamo in tempo metto a fare il rifugio metto a fare il rifugio non ho foglie non ho foglie zi spacca non ci sono più piantine spacca tutto ok basta mamma mia no ragazzi mamma mia fuori di testa fuori di testa pazzesco ciao raga ciao